Prezi Informwork è un'azienda di medie dimensioni che nasce oltre i 30 anni fa e siamo produttori di cassa di prezziamento armato. Forniamo le imprese di costruzione in 89 differenti paesi al mondo e tutta la produzione viene eseguita in Italia. Ai nostri clienti offriamo il nostro prodotto ma li accompagniamo con il servizio di engineering nello studio e l'assistente durante la realizzazione del cantiere. Frazi Informwork da oltre 10 anni lavora per aumentare e per essere più presente nei mercati con il supporto di Sace per quanto riguarda il suo export. Oggi la nostra azienda realizza l'85% del suo fatturato attraverso l'export. Con Sace abbiamo iniziato 10 anni fa. Lavoriamo principalmente con prodotti di medio e lungo periodo per supportare e dare credito commerciale ai nostri clienti. Riteniamo che oggi Sace possa essere un partner fondamentale nello sviluppo per aumentare le proprie quote nei mercati estri e nel nostro caso ci ha fortemente aiutato nel nostro sviluppo estero. Con Sace lavoriamo in differenti paesi del mondo dai paesi avanzati Ocse ai paesi di disluppo. In particolar modo abbiamo supportato i nostri clienti in paesi come Senegal, Marocco, Burkina Faso, Benin ed oggi abbiamo iniziato a fornire nell'ultimo anno il progetto Conza Project in Kenya con il gruppo Maltauro. Questo progetto è un progetto particolarmente interessante perché è parte del piano governativo di sviluppo del governo Kenyota ed sarà un polo tecnologico che sarà realizzato dentro il 2030. Oggigiorno noi forniamo i nostri prodotti per il trattamento delle acque che è la prima parte del cantiere ed in questo siamo stati supportati da Sace SPA.